Bene, allora le conclusioni, Antonella Trocino che ci parlerà. Allora, intanto vi ringrazio e voglio fare un preambolo per spiegare come mai ho organizzato assieme a LEFT questa cosa. Intanto voglio ringraziare LEFT e lo dobbiamo sostenere, comprate il giornale perché fa controinformazione, questa è la prima forma di tutela della democrazia. Con LEFT questo è il quarto incontro, i primi tre sono stati dedicati all'Europa perché Diem è un movimento trasnazionale di cui faccio parte che ha come pilastro nel suo programma, il suo programma si chiama Green New Deal per l'Europa. Quindi il green ce l'ha nella Costituzione, nel percorso e nella meta. Questo movimento si dice che ha la testa a Bruxelles e i piedi nel territorio e noi i piedi nel territorio non li avevamo mai messi e come sentite dal mio accento io non sono neanche romana, quindi non conosco la città, ho voluto invitare delle persone che invece rappresentassero delle battaglie quanto meno istituzionali rispetto a quello che ho pensato essere il luogo emblematico di Roma da cui partire per affrontare delle battaglie sul territorio e l'idea di questo incontro viene anche dall'altro cappello che mi sono messa che è quello del comitato Stefano Rodotta per i beni comuni che sta facendo questa doppia battaglia di cui proverò a parlarvi sedendo ingiustamente il posto di Lucarelli che purtroppo ha avuto dei problemi di salute e oggi era qua a Roma per venire oggi pomeriggio ed è dovuto rientrare a Napoli. E allora partirei innanzitutto dal fatto che le leggi non bastano. Però questa legge potrebbe essere un punto di partenza e certi interessi che non sono rappresentati da nessuno chiaramente come sono gli interessi dei beni comuni si traguardano solo se c'è un'alleanza tra dei riferimenti normativi di fonti primarie del diritto come è la modifica del codice civile e lotte dal basso. Le due cose devono andare insieme perché una legge se non ha chi rappresenta quei diritti che quella legge vuole tutelare rimane lettera morta e gli inglesi dicono che le leggi sono ciò che tu fai rispettare se una legge non è fatta rispettare non è legge è solo burocrazia che si aggiunge a tanta burocrazia. E allora partirei dal perché è stata fatta questa legge di iniziativa popolare. È una proposta di legge perché è l'articolo 71 della Costituzione che è quello che attribuisce il potere legislativo al popolo, potere che non è mai stato esercitato. Dice il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redato in articoli. Quindi punto primo è una proposta, dovrà per forza passare dal Parlamento e lì si potrà migliorare. Ma l'idea di Mattei e Lucarelli che sono il presidente, il vicepresidente del comitato promotore era forse un'idea di una forma di riconoscenza verso il loro maestro e che la prima legge di iniziativa popolare fosse il testo della Commissione Rodotà. Commissione Rodotà che è stata istituita il 21 giugno 2007. C'è stato un lavoro di mediazione molto grande perché non esisteva un concetto nel diritto di bene comune. Gli inglesi hanno i commons, lasciano attraversare le loro olande verdi alla gente perché c'è questa tradizione. Noi avevamo i domini collettivi che però per essere dimostrati appartenere al popolo come scrive un notaio che è specializzato negli usi pubblici, io non me ne intendo ma commenta la legge del 2017-168 dicendo il legislatore praticamente ha ripreso la legge del 1994 che riguardava le competenze delle regioni sui domini collettivi ma per dimostrare che un dominio appartiene alla collettività bisogna andare fino in Cassazione con i cartigli e le pergamene medioevali. Ecco, il punto di partenza, l'impostazione della Commissione Rodotà che arriva a traguardare un testo di legge di due pagine però ha dei concetti fondamentali che poi appunto possono essere migliorati che poi dovranno essere attuati ma sono un punto di partenza fondamentale poi vi dirò alcuni punti che secondo me rappresentano dei baluardi importanti che poi non funzioneranno se non c'è anche quel lavoro dal basso di chi effettivamente fa tutela sul territorio dei beni comuni. Allora, ci sono alcuni concetti che voglio riprendere dal testo C'è un'idea, intanto rispetto appunto ai domini collettivi medioevo la legge del Comitato Rodotà, la proposta del Comitato Rodotà guarda alle generazioni future, individua non solo la finalità sociale cioè beni comuni sono quelli che permettono la realizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini, dell'uomo. Ma sono anche quei beni che devono essere tutelati a favore delle generazioni future. Avete presente? Io sono andata quasi tutti i venerdì assieme ai ragazzi che manifestavano. Sono andata a Colonia, c'erano 5.000 ragazzi in piazza. A Roma i primi sei venerdì non arrivavamo a 100 persone davanti a noi. Ci manca questa sensibilità ma gli adulti devono prendersi la responsabilità di tutelare i beni fondamentali per le generazioni future. E quali sono questi beni comuni che individua come esemplificazione perché questa è una esemplificazione non esaustiva. Sono beni comuni collocati fuori commercio quando i titolari dei beni comuni sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio. Vuol dire una tutela rispetto a future privatizzazioni. E guardate che nell'ultimo documento di economia e finanza hanno scritto 18 miliardi di privatizzazioni nel 2019. Poi non li faranno evidentemente ma 18 miliardi sono quasi il doppio dell'anno a fine anni 90 in cui si è fatto il massimo di privatizzazioni ed erano meno di 10 miliardi. Avete presente la procedura di infrazione sul debito? Questo è l'ombra lunga di Schauble che continua a perseguitarci. Perché questa attenzione sul debito diventa il nodo scorsoio per tutte le politiche pubbliche in Italia. E quindi è fondamentale proprio in questo momento, proprio per queste minacce, tutelare quello che ancora è pubblico e che nella misura in cui rientra nella definizione di bene comune viene posto fuori commercio. E sono i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque, l'aria, i parchi, i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive, le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Quindi questo testo già prevede il fatto che in fase di decreto legislativo di recepimento della legge delega ci sarà un coordinamento con gli usi civici, quindi con la legge 168 del 2017. Ma poi ci sono altre cose interessanti secondo me. C'è una destrutturazione del concetto del demanio. Ma in che modo? Nel tripartire i beni demaniali in tre fatti specie. Ora sappiamo che il demanio a tutti dà l'idea di essere una cosa che protegge ciò che pubblicano. Peccato che i beni all'interno del demanio possono essere sdemanializzati con una decisione amministrativa di tipo politico. Quindi il demanio purtroppo finora non ci ha tutelato tanto. Hanno venduto boschi, boschi secolari per fare cassa. E l'hanno fatto per fare cassa per coprire spese correnti addirittura. Per questo ritengo che sia tutelante avere questa tripartizione di ciò che rientra nel concetto di demanialità. I beni ad appartenenza pubblica necessaria. Questi qua sono quelli che non sono né usucapibili né alienabili. E rientrano fra questi le opere destinate alla difesa, le spiagge e le rade, le reti stradali, autostradali e ferroviarie, lo spettro delle frequenze, gli acquedotti, i porti, gli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale. Vi ricordate che dopo la chiusura della negoziazione con la Troica nel luglio del 2015, quando nonostante il referendum del popolo greco che non accettava le condizioni della Troica, il governo ha deciso di accettarle, ho torto collo, la Germania si è comprata subito dopo nove aeroporti. Allora che si scriva che i beni ad appartenenza pubblica necessaria non sono né usucapibili né alienabili, a me un po' mi rassicura. Poi ci sono quelli beni pubblici sociali. I beni pubblici sociali anche questi non sono usucapibili. E tra questi rientrano le case dell'edilizia residenziale pubblica. Non c'è più social housing, lo si faceva ai tempi dei miei genitori. E forse è il momento di ritornare a fare un po' di edilizia sociale. Gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili e le reti locali del servizio pubblico. Insomma, poi ci sono invece quelli beni pubblici fruttiferi, dove invece lì si dice, sì, sono vendibili, però l'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuare il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura le necessità delle scelte sottese alla dismissione. Invece adesso, appunto, è decisione pubblica senza particolari dimostrazioni. E i corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente. Guardate, questa è una cosa importante, perché non servirebbero per fare budget annuale. E poi vi voglio dire un'altra cosa, poi mi taccio e voglio concludere però con le parole di Mattei, del suo libro. Perché riprende lo spirito di questa proposta. Ed è il fatto che, praticamente, quando si danno i beni in concessione, ci deve essere trasparenza rispetto alla congruità tra i ricavi economici rivenienti dalla concessione e quanto paga il concessionario. Avete presente il crollo del ponte di Genova, il fatto che la parte economica di quella convenzione era secretata? Insomma, per questo ed altri motivi mi dispiace appunto non essere un costituzionalista, io sono un economista, ma penso che questa, per quanto possa essere migliorata, sia una battaglia che tutti quelli che hanno a cuore una gestione collettiva dei beni comuni dovrebbero supportare. L'altra firma promossa dal comitato Rodotà è quella per la società ad azionariato diffuso. La società ad azionariato diffuso è l'idea di avere, oltre alla legge, un braccio operativo che fornisca una piattaforma per la democrazia partecipativa di tutte le associazioni e i cittadini che vogliono interessarsi di beni comuni. Ed è una piattaforma che serve, perché io vedo che l'associazionismo fa tantissimo. Le persone dedicano pezzi della propria vita, ma c'è una tale frammentazione, è una tale dispersione di forze, che se non si riesce a fare un po' di aggregazione, di tessuto connettivo, le battaglie si perdono. Quindi metteteci due firme fuori, potete farlo. E lasciatemi finire con le parole di Mattei, perché glielo dobbiamo, secondo me. In altre parole, quindi puntini puntini, un bene comune può essere qualsiasi cosa, una comunità aperta riconosca, capace di soddisfare un bisogno reale o fondamentale al di fuori dello scambio di mercato. Oltre allo spazio fisico o pubblico, possono anche rientrare nella nozione organizzazioni istituzionali, quali le cooperative o le risorse con vincoli di destinazione comunitaria, le fondazioni gestite nell'interesse delle generazioni future, le economie di villaggio, gli usi civici, i dispositivi per la condivisione dell'acqua e molte altre strutture organizzative, sia antiche sia contemporanee. Il valore dei beni comuni, più qualitativo che quantitativo, è creato dall'accesso condiviso, ovvero ecologico, da parte delle comunità e dal potere decisionale diffuso. Le istituzioni dei beni comuni tendono a contrastare il movente egoistico del profitto, le disuguaglianze e il difetto di lungimiranza. Esse funzionano attraverso il conferimento di potere giuridico diretto ai loro membri nella ricerca condivisa di un significato o di una funzione generativi, rispondono ai bisogni umani concreti di partecipazione, sicurezza e socievolezza e rappresentano un esempio di proprietà generativa e non estrattiva. Grazie. Applausi Grazie.